Il perdono Quando usiamo la parola perdono, ciò che vogliamo dire è che qualcuno ti ha fatto del male e tu ti rendi conto che la persona non ne è responsabile. Quando ti rendi conto che la persona non è responsabile, il perdono accade, non sei tu che perdoni. Shri Bhagavan Dove c'è perdono, i miracoli accadono naturalmente. Non dubitare che Dio ti perdoni, perché Dio non ti ha mai giudicato. Shri Amma Bhagavan Sous-titrage ST' 501